benvenuti su live taste tv per una nuova puntata di 180 secondi di vini quest'oggi voglio presentarvi un vino della cantina poderi parpinello di alghero il vino che vi presenterò è il vermentino di sardegna 64 del 2011 il vermentino è un vitigno che è molto ben acclimatato in sardegna il primo vitigno a bacca bianca coltivato nell'isola e ha origini spagnole è molto diffuso anche nella parte settentrionale del tirreno e principalmente in toscana ma adesso andiamo ad aprire la bottiglia adesso iniziamo con la degustazione il nostro vermentino di sardegna doc come impatto visivo mostra un colore che è sicuramente un giallo paglierino con dei riflessi verdolini un'ottima brillantezza è veramente molto brillante è una buona consistenza al naso è abbastanza intenso fine troviamo riconoscimenti come fiori fiori gialli e agrumi al gusto è un vino abbastanza caldo molto sapido con questa sapidità lo rende piacevole piacevole e richiama il sorso successivo va servito ben fresco a 8 10 gradi e si abbina perfettamente con tutti i piatti a base di pesce ma il mio abbinamento personale con questo vermentino di sardegna doc è o con crudi di mare o con semplici gamberi freschissimi appena scottati alla griglia io vi saluto e vi aspetto la prossima puntata di 180 secondi di vini sempre su live taste tv un saluto da federica chi Grazie a tutti